La conferenza stampa sulla camminata rosa è stata anche l'occasione per le volontarie AMOS e AMDOS di consegnare una targa al chirurgo Carlo Iannace a Giovanni De Chiara, dirigente medico dell'Unità Operativa di Anatomia Patologica dell'azienda Moscati, come attestato di stima per la menzione speciale ricevuta nell'ambito del riconoscimento Umberto Veronesi a laudato medico, premio che viene assegnato dalle pazienti ai medici che si sono distinti nella capacità non solo di cura ma anche di ascolto e comprensione. Soddisfatto, orgoglioso, soprattutto un riconoscimento che va a premiare i sacrifici che fino adesso abbiamo fatto insieme anche al dottore Iannace, un riconoscimento da parte della gente, delle donne operate a seno, quindi il riconoscimento più bello perché viene riconosciuto la nostra missione di medico, la nostra missione umanitaria soprattutto perché quello che è stato valutato ed è stato premiato in questo premio Umberto Veronesi è la disponibilità, l'accoglienza, la capacità di ascoltare, sono queste le cose per cui le donne hanno votato, al di là ovviamente, spero, della professionalità. Grazie a tutti.